Questo mese in esclusiva su Pesca. I migliori esperti nelle diverse discipline ci offrono i loro preziosi consigli in utilissimi tutorial per affrontare al meglio tutte le sessioni di pesca. Ritroviamo il capitano Nofaro e il suo simpatico equipaggio impegnati in spettacolari battute di pesca in tutto il Mediterraneo. Questo non è un pesce, questo è veramente un mostro. Pesca TV, trasmettiamo passioni.